è partita a roma la sesta edizione di aria di san daniele l'ormai consueto tour enogastronomico ha debuttato lunedì sera nella capitale prima di fare tappa nel corso dell'intero autunno in altre sei città napoli catania bari milano torino e brescia per un totale di 35 degustazioni l'obiettivo è sempre lo stesso svelare agli italiani la straordinaria qualità della dop friulana anche con tutte le difficoltà della post pandemia dell'inflazione della peste suina africana il consorzio del prosciutto san daniele continua a riportare numeri importanti 26 milioni di vaschette l'anno per una produzione il cui 18 per cento è destinato al mercato estero in occasione della prima degustazione romana del tour efa news ha incontrato nicola sibilotti responsabile marketing e comunicazione del consorzio del prosciutto san daniele aria di san daniele è un tour itinerante che dal 2017 organizziamo ogni anno in italia dove selezionando alcune delle principali città italiane quest'anno saranno sette andiamo ad organizzare degli aperitivi degustazioni all'interno dei locali proprio quindi tra osterie noteche bar e ristoranti della penisola nelle principali città vengono organizzate queste degustazioni dove poter raccontare il prosciutto di san daniele farlo conoscere ai consumatori e permettere così di avere un contatto diretto con i consumatori peraltro la degustazione particolare perché oltre al taglio in affettatrice c'è anche il prosciutto tagliato coltello per cui un'esperienza sensoriale di gusto un po più particolare che permette di raccontare i valori le caratteristiche del prosciutto di san daniele che è un prodotto DOP indistribilmente legato al suo territorio d'origine che è appunto la città di san daniele in frio di venenza giulia quest'anno sarà appunto la sesta edizione ci saranno le sei giornate qua a roma da cui parte il tour questa sera per poi proseguire a napoli catania dopo ci sarà la volta di bari torino milano e brescia e completeranno in questo autunno per la sesta edizione il tour torna nei locali del circuito recap per raccontare san daniele anche ristoratori proprio per far vivere anche loro l'esperienza e le qualità del prosciutto di san daniele anche per poterlo consumare poi in futuro sono 31 i prosciutifici in cui il stabilimento si trova proprio a san daniele che lavorano e stagionano il prosciutto di san daniele e circa il 18 per cento della produzione annua è destinato all'estero prevalentemente ovviamente il mercato italiano e quello europeo però ci sono anche dati importanti che raccontano come il san daniele si è apprezzato negli stati uniti e in australia chiaramente in casa europea francia e germania sono i principali destinatari del san daniele sia per finire la finanza che ormai per tradizione il comparto del san daniele in realtà da moltissimi anni attento alle tematiche di valorizzazione e sensibilizzazione ambientale proprio perché il prosciutto di san daniele proviene da un territorio ben specifico dove l'ambiente e il microclima sono un elemento utile alla sua stagionatura la sua lavorazione e la tutela di questo ambiente è un'attività primaria del comparto il san daniele da moltissimi anni fa un recupero del sale esausto dalla produzione che rimane ovviamente come rifiuto lo riutilizza lo ricicla in un'ottica di economia circolare viene per esempio riutilizzato come antigliasso stradale proprio per questo motivo in questi anni il consorzio sta investendo nella realizzazione di un impianto proprio per la lavorazione di questo scarto così come negli anni un depuratore consortile che convoglia le acque dei principali prosciutifici serve appunto a dare una depurazione primaria a tutte le acque di scarico delle aziende per rimettere in natura in un modo molto più pulito quindi c'è un'attenzione all'ambiente un'attenzione a preservare il territorio che ovviamente insiste anche nella lavorazione del prosciutto di san daniele con un'attenzione comunque al comparto i lavoratori alla sicurezza alimentare alla tracciabilità così come il QR code che ha posto su ogni vaschetta di preaffettato che ci permette di conoscere una filiera e di tracciare tutto il percorso di produzione del prosciutto di san daniele questo è un prodotto simbolo della nostra salumeria nella nostra tradizione made in Italy il san daniele è un prodotto famoso nel mondo che viene esportato in tantissimi paesi ed è opportuno farlo conoscere anche da noi in Italia perché è una DOP quindi come tale trae le sue caratteristiche dalla zona di produzione ma è opportuno anche uscire dalla zona abbiamo area di festa che è un appuntamento importante da sempre a san daniele e credo che l'idea di portare l'area di festa al di fuori della zona di produzione sia un'ottima idea per fare conoscere questa eccellenza in Italia ma perché no anche nel mondo la salumeria ha sempre davanti a sé moltissime sfide è un settore spesso bersagliato anche ingiustamente da da questioni sanitarie salutistiche ambientali quindi è tutto il comparto insieme no che deve lavorare per sfatare determinate leggende e per far capire la tipologia di produzione in questo caso il san daniele è un prodotto completamente naturale si fa solamente con il sale e quindi opportuno che le persone lo conoscono il più possibile proprio per poterlo apprezzare fino in fondo e consumarlo in una maniera corretta